le sensazioni che te l'ho detto dalla prima registrazione che c'è stata ma te l'ho scritto pure io quello che il trasporto che provo verso di te che non è il trasporto fisico mi raccomando che sia ben precisa oggi io non lo posso ma tu riesci a capire cos'è? cioè riesci a capire cosa senti? penso di sì penso di sì ti ricordi quel famoso ragionamento che mi facessi una volta per due ore io te lo chiedevo perché volevo capire penso che più o meno è oggi se non l'hai capito che cos'è? che cos'è? ho voglia proprio di ho voglia di lei proprio dal dal tallone all'ultimo capello si ma non parla di attrazione no 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 non parlo di attrazione parlo proprio della tua persona no io voglio capire che cos'è quello che tu senti oggi che cos'è? non è il piacere di Ida sicuramente forse sì ma anche all'epoca c'avevi un sentimento che non sapevi neanche ah allora devo dirti che amore sicuramente una forma d'amore lo è eppure è abbastanza accentuata questo è poco ma è sicuro Roberta vuoi dire qualcosa? posso fare la gommara Maria? sì se gli da vuole non ho parole veramente zero grazie a tutti 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 grazie a tutti